A Castelrotto Mattia Destro ha ritrovato gol e parola, tutto in colpo. Sette reti in due, mezze, partite, sia pure contro avversari dilettanti. E oggi una lunga intervista a Sky, dopo mesi di sostanziale silenzio stampa? Mi sono messo alle spalle un anno difficile, ha messo l'attaccante al microfono di Marco Nosotti, virgola venivo da un infortunio lungo, e ho tardato ad entrare in condizione, adesso in ritiro, sto lavorando al meglio. In questo campionato voglio fare grandi cose. Ho le spalle larghe, so quello che posso dare alla squadra, il mio obiettivo è entrare subito in condizione e lasciar parlare il campo. Che darà i suoi giudizi? L'unica cosa che posso dire ora è che ho davvero tanta voglia di fare bene. 19 reti nel primo biennio rosso-blu, gliene mancano 11 per far scattare il premio da 2 milioni, e mezzo che il Bologna pagherà alla Roma al trentesimo sigilo. Il terzo anno, per destro, vuole essere quello della consacrazione. E io, rimarca l'attaccante, non ho mai pensato, anche nei momenti di sconforto, di cambiare squadra. Voglio far vedere a Bologna il giocatore, che sono e mettere in mostra le mie doti. Immobile e Bellotti, per citare due nomi importanti, continuano a fare bene, e il loro rendimento è uno stimolo per tutti noi centravanti. Stimolo, o concorrenza. I mondiali sono alle porte, e questa è l'ultima stagione per mettersi in vetrina. Russia 2018. Sì, ci penso. Ho voglia di giocare il mondiale, è un mio obiettivo che passa necessariamente da una buona stagione col Bologna. Lo stesso vale per Verdi e Di Francesco, speriamo di.